In eccellenza il Marina di Ragusa affronterà lo stadio Aldo Campo e il Camaro. In vista di questo match casalingo, il rosso-blu di mister Salvatore Utro hanno trascorso una settimana di intensi allenamenti in cui lo staff tecnico ha cercato di fare il punto della situazione sugli infortunati e preparazione atletica. Match in trasferta per i bianca-azzurri di mister Gaetano Lucenti che saranno impegnati contro il terme vigliatore. In promozione la formazione del Frigentini sarà in trasferta contro il Floridia. Il Ragusa Calcio giocherà fuori dalle Muramiche contro l'Enna sul campo dello stadio generale Gaeta. Un match importante per gli azzurri, riduci della vittoria contro la Barrese, che dovranno dimostrare di essere una squadra compatta, specialmente in questo match contro Enna, considerata una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Per il tecnico Filippo Raciti il tasso tecnico della formazione azzurra non si può mettere in discussione e questo si nota partita dopo partita in cui anche gli under hanno la possibilità sia di mettersi in mostra di essere affiancati da atleti di un certo spessore.